Adesso è arrivato un momento che ti riguarda in prima persona perché ho visto passare l'ospite che devi intervistare. Assolutamente sì, oggi è la giornata dedicata alla letteratura e abbiamo un ospite, siccome siamo qui a Montorio, abbiamo un ospite montoriese che si è prodigata e continua a prodigarsi tantissimo per diffondere un messaggio di cultura, per invitare alla lettura appunto e devo dire che la cittadinanza segue tantissimo queste proposte. Stiamo parlando di Luciana del Grande che appunto abbiamo visto passare, quindi Federico ti lascio sotto l'albero di Natale, io vado dalla nostra ospite, quindi a dopo. Quindi guardiamo insieme l'intervista. Ma fai attenzione che gli occhi con gli specchi dell'anima ti piace? Grazie! 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 Eccoci tornati, siamo ancora nel Chiostro degli Zoccolanti qui a Montorio Alvomano e siamo qui per presentarvi un ospite con grandissimo piacere che ha animato questo chiostro e l'intera Montorio Alvomano, grazie al potere della letteratura, stiamo parlando di Luciana del Grande. Luciana, grazie per essere venuta a trovarci. Grazie, grazie a voi, grazie per l'invito. È un piacere, noi entriamo subito a parlare di questa rassegna culturale, libri dal vivo nel chiostro che sta volgendo alla fine. È una rassegna particolare perché porta non solo gli autori a conoscere la cittadinanza montoriese, non solo, ma siete riusciti a dare proprio vita ai loro libri grazie a delle letture, quindi è una maniera molto interattiva di vedere i libri. Sì, siamo molto soddisfatti dell'apprezzamento del pubblico e sì, si può parlare di cultura in qualsiasi modo, ma in qualsiasi modo si faccia è importante comunque che abbia un ruolo prioritario nella vita comunitaria del Paese. Noi ci abbiamo provato e dobbiamo dire che ci siamo anche riusciti, siamo riusciti a creare aggregazioni intorno alla cultura, quello che in realtà volevamo, la rassegna è stata curata da me e Clementina Chiavatti, è un progetto nato dalle associazioni di Fiti Zero Abruzzo e Onde Libere e c'è stata anche la collaborazione della Biblioteca Civica e della Biblioteca del Ricordo e infatti un incontro lo abbiamo avuto proprio alla Biblioteca del Ricordo. Abbiamo cercato di creare un palinzesso che potesse il più possibile raggiungere i gusti letterari dei cittadini. Devo dire che in tutte le presentazioni le letture sono state curate dai ragazzi. Poi coinvolgere i ragazzi è forse il modo più diretto e anche il più efficace per appunto avvicinarli alla lettura, all'arte, alla conoscenza, perché spesso quando le cose si guardano dall'esterno sembrano sempre così lontane, invece quando poi si ha in mano il libro e ci si deve preparare per una performance, per qualcosa poi ci si immerge veramente all'interno. È stato così emozionante infatti perché poi i ragazzi hanno a loro volta invitato altri amici ad assistere alla presentazione del libro, quindi ad ogni presentazione abbiamo avuto sempre tanti giovani e addirittura in una presentazione in particolare tre ragazzi che hanno letto hanno voluto poi proseguire a cena con l'autore, quindi è stato bellissimo averli, cioè continuare una bella soddisfazione deve essere stata, perché si dice tanto che questi ragazzi sono distanti e invece quando hanno la possibilità secondo me accolgono ben volentieri quello che gli viene proposto, soprattutto quando la proposta è di qualità. Noi li abbiamo visti veramente molto coinvolti. Un'altra cosa che volevo aggiungere è che ad ogni presentazione noi abbiamo voluto approfondire il tema di cui si andava a parlare con un esperto proprio del tema che trattavamo. Ad esempio nel libro di Mariano Sabatini dove si parlava appunto della televisione e della comunicazione quindi abbiamo invitato come ospite il professore Andrea Sangiovanni che è docente all'Università di Teramo ed è esperto proprio in comunicazione e in televisione. C'è stato un momento bellissimo, soprattutto molto interattivo, il pubblico ha partecipato tantissimo. Abbiamo fatto lo stesso con il libro poi di Caterina Falconi con il Noir che parlava appunto di abuso narcisistica, di dipendenza affettiva e purtroppo di femminicidio, purtroppo è ancora un tema molto molto caldo, molto attuale. E lì è stata con noi la dottoressa Raffaella Di Gregorio, psicologa, psicoterapeuta e quindi ci ha parlato di quali sono i meccanismi poi che innescano questo tipo di abuso. Quindi è stato anche lì molto toccante, il pubblico ha partecipato tantissimo. Beh anche istruttivo perché molte volte conoscere i meccanismi dietro ci aiuta anche a prevenire poi dei comportamenti sbagliati o l'accettazione sbagliata di comportamenti inaccettabili. Ad esempio nel libro poi di Elsa Flacco, di Augustea, sulla storia di Roma abbiamo avuto come ospite la dirigente scolastica, la professoressa Eleonora Magno, ha fatto un intervento bellissimo. Elsa Flacco è molto coinvolgente però anche è veramente coinvolgente nelle sue presentazioni ma la professoressa Eleonora Magno ha fatto veramente un intervento importante soprattutto sulla figura di Cecilia Metella. Abbiamo scoperto, grazie anche alla presentazione di questo libro, quanto ad esempio i diritti delle donne fossero riconosciuti nell'antica Roma. Esisteva già il divorzio ad esempio e Cecilia Metella era una donna assolutamente libera, molto moderna anche. È incredibile come si debba poi combattere per riacquisire diritti che in realtà erano già scontati ma forse dovrebbero esserlo comunque tutt'oggi. E nel libro invece di Roberta Scorranese, a questo serve il corpo, ed è un libro declinato al femminile anche questo ed è stato un viaggio bellissimo attraverso il corpo delle donne, quindi con i più grandi autori, diciamo i più grandi pittori, i più grandi artisti che hanno ritratto le donne e lì c'è stato un confronto molto interessante con Carmine Di Giandomenico che è fumettista di fama internazionale e quindi abbiamo messo a confronto la sesta arte che è quella del fumetto con l'arte pittorica e ne è venuta fuori una cosa anche insomma bella. Invece con Edda Migliori abbiamo dialogato io e Clementina Chiavatti che è un'insegnante e quindi anche lì abbiamo approfondito appunto il tema della condizione femminile in Abruzzo soprattutto nell'entroterra abruzzese, insomma qualche anno fa e insomma c'è stata anche lì una bellissima emozione perché ci sono stati dei racconti che parlavano, un racconto in particolare che parlava purtroppo della depressione post partum vista come una malattia da chiudere e quindi insomma all'epoca a Teramo c'era il manicomio e quindi succedevano queste cose, quindi un'ignoranza veramente che insomma in questo caso, in questo senso abbiamo fatto per fortuna dei passi avanti, però ci sono altre condizioni che... Invece con Peppe Millanta avevamo previsto la presenza di Mattia Pompei che avrebbe dovuto fare una grafo recensione in diretta del libro e quindi insomma volevamo vedere cosa veniva fuori, però purtroppo c'è stato un imprevisto e lui non è potuto essere con noi, questa cosa un po' ci è dispiaciuta, però ecco quindi abbiamo cercato in ogni presentazione di approfondire con esperti comunque di poter dare anche un contributo oltre il libro anche sul tema che andavamo a trattare. Certamente sono stati tutti autori brillanti, sono libri interessanti, tutti interessanti. Beh poi la selezione non deve essere facile perché poi quando si organizza una rassegna così insomma bisogna stare attenti al tema, all'autore, alla scrittura, insomma ai differenti generi, al pubblico che può essere interessato, quindi deve essere ogni volta una bella sfida. Poi per lei non è la prima volta perché io mi sono un po' informata, no? Lei in realtà si prodica per la comunità portando un messaggio appunto, cercando di divulgare la cultura, la lettura il più possibile già da molto tempo, no? Sì, però diciamo che Montorio in realtà ci chiama a fare questo perché è una comunità molto ricettiva, non soltanto per quanto riguarda, ma diciamo per quanto riguarda la cultura declinata in qualsiasi modo, per la musica, per... Ci sono tanti artisti a Montorio infatti, tantissimi. Quindi è veramente un fulcro di artisti ed è molto bello, ed è molto bello interagire con loro. Infatti abbiamo voluto creare un momento conviviale alla fine di ogni presentazione con i prodotti tipici di Montorio, quindi il bocconotto e il cotto d'amore. Una grande fierezza, devo dire. Il cotto d'amore. E questo è stato bello perché la nostra idea di creare aggregazioni intorno alla cultura ha proprio funzionato, perché alla fine di ogni presentazione è stato bellissimo poi parlare, scambiarsi opinione attorno, diciamo, a questo tavolo che comunque ci invitava alla convivialità, no? Quindi allo scambio. E insomma sì, ci si sono trattenute le persone e questa cosa è stata bella. Quando si vede una risposta positiva vuol dire che si sta lavorando bene e che la comunità per cui si sta lavorando è ricettiva, quindi sono due cose che vanno di pari passo, no? Sì, e devo dire che questa comunità così ricettiva è apprezzata e vista di buon occhio anche fuori. Sono venute tantissime persone, ad esempio da Teramo, ma sono venute anche da Roseto, da Giulianova, da Arsita, da tanti luoghi e anche insomma fuori provincia. Quando abbiamo presentato il fuori rassegna, abbiamo lì, abbiamo raggiunto veramente l'apice, no? Eh sì, raccontiamolo per chi se lo fosse perso, perché noi lo abbiamo documentato. È venuto Henry De Luca a presentare il suo ultimo capolavoro, Le Regole dello Shanghai, che devo dire ha coinvolto tantissime persone ed è stato un momento veramente interessante e profondo, quindi devo dire che poi penso che il successo della rassegna sia sì rappresentativo quando arriva il nome, però forse ancora di più quando si parla dell'artista emergente oppure della persona ancora poco conosciuta e quando questo riesce a coinvolgere anche chi non la conosce vuol dire che comunque le persone si fidano anche di chi propone, no? L'artista o comunque di chi organizza la rassegna, quindi penso che sia una soddisfazione. Sì, ne ha fatti la scelta, diciamo, non è mai facile, perché incontrare i gusti di tante persone, per questo comunque la cosa che abbiamo tenuto più di tutti, diciamo, alla quale abbiamo tenuto di più è stata quella di raggiungere comunque un pubblico di età variegata, quindi dal più piccolo fino al più grande, quindi bambini, ragazzi, generi diversi, ogni libro affrontava un genere diverso sicuramente, penso che è un'ottima cosa per l'editoria locale dare questo spazio, quindi dare uno spazio di visibilità agli editori locali, agli autori locali, anche nazionali ovviamente, però l'editoria locale sicuramente ha bisogno di questa spinta. E naturalmente è stato bello anche avere un autore di spicco come, diciamo, un autore internazionale come Erri De Luca, diciamo non ce l'aspettavamo, neanche noi ci abbiamo provato, Erri De Luca è stato gentilissimo ad accettare, tra l'altro abbiamo notato una cosa bellissima che non accade mai, lui ha presentato il suo libro in piedi, davanti al suo pubblico, per tutto il tempo, perché lui ci teneva a guardare negli occhi tutte le persone che lo erano venute a seguire. Erano più di 150 persone, avevamo allestito, grazie anche a voi, avevamo allestito nella stanza adiacente un video per la diretta streaming, perché in quella sala non ci entravano tutti, ed è stato, diciamo, commovente. Poi con Erri De Luca si toccano temi importantissimi, quindi è veramente arricchente ascoltarlo. Insomma, per me è stata una grande emozione e sono stati... la presentazione poi doveva essere in coppia con Maria Cristina Marroni che purtroppo si è ammalata e insomma per fortuna era... avevo previsto la coppia e quindi Peppe Millanta ha, diciamo, è stato bravissimo poi. Assolutamente sì, è stato assolutamente all'altezza della situazione. È stato all'altezza, veramente bravo. E Laura Margherita Di Marco, insomma, poi che è un'attrice di teatro, ha dato veramente, insomma, un tocco alle letture, no? Molto partecipate. Quindi siamo molto contenti e ringraziamo tutti coloro che sono venuti, anche dall'Aquila, da Pescara, praticamente da tutti i luoghi, da Bruso. Le chiedo come è nata questa passione, perché non è solo la passione per la lettura, è anche per la divulgazione poi della cultura. Sì, infatti, diciamo, quello alla quale, insomma, tengo di più è proprio aggregare, no? È proprio... ed è bellissimo l'aggregazione intorno alla cultura, intorno ad un libro. È una cosa veramente molto bella, perché tra l'altro poi il libro che scegli magari tocca dei temi anche attuali sui quali poi ci si può confrontare. Quindi è anche motivo sicuramente di crescita. E ripeto, insomma, abbiamo un paese che veramente ce lo chiede, perché risponde alla grande, ma da sempre, io non sono di Montorio, sono di Teramo, sono a Montorio da 40 anni, ma devo dire che è un paese molto ricco, ricco culturalmente, un paese che ama le sue origini, la sua cultura, ma ci sono tantissimi artisti validi, persone valide, e è vero che io mi occupo, ma ci sono tantissimi volontari, tantissime associazioni che fanno tanto per il paese. E non è da poco, devo dire. Assolutamente. C'è un grande orgoglio proprio, sì. Bene, ma si legge anche nei suoi occhi quando ne parla. Comunque si vede che c'è una bella comunità calda, calorosa, attiva, responsiva, e veramente non è da poco. Sono felice, diciamo che sono stata accolta in maniera splendida da questo paese, nel quale mi trovo veramente bene. E c'è anche un altro fuoricartellone, allora, perché poi lei ci ha svelato una piccola chicca, quindi diciamola a chi fosse interessato, perché, voglio dire, ci sarà un ospite importante tra qualche giorno, proprio qui a Montorio Alvomano. Sì, diciamo, i fuori rassegna, ci ha portato Enri De Luca, ma domenica 17 ci porterà Donatella di Pietrantonio, la nostra bravissima, diciamo, una delle scrittrici più importanti del panorama, diciamo, letterario contemporaneo italiano, di fama internazionale. Il suo libro L'Arminuta è stata tradotta in tantissime lingue, ha generato anche un film di grande successo. E Donatella di Pietrantonio è un'autrice straordinaria, perché scava dentro proprio. Con una forza narrativa incredibile, è vero. Diciamo, anche questo libro ha una grande potenza, una grande potenza narrativa, e nonostante lei lavori nella sua scrittura per sottrazione, perché la sua scrittura è molto, molto asciutta, eppure riesce comunque a farci entrare anche nei silenzi, nei non detti. Ma è quell'essenzialità forse che fa la differenza poi nella narrativa, no? Sì, noi siamo onoratissimi di averla domenica. Volevo ringraziare l'amministrazione comunale di Montorio Alvomano, che ha patrocinato e ha finanziato l'evento, che ha creduto in questa rassegna, e quindi sì, grazie anche al loro contributo, al contributo, insomma, dell'amministrazione comunale. E naturalmente ringrazio tutti i collaboratori, diciamo che da soli non si fa niente. Questo è un lavoro di squadra, di gruppo, e quindi la collaborazione è stata importante. La ringrazio per la disponibilità, sicuramente seguiremo i prossimi avvenimenti con grande interesse. La ringrazio allora. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.